Il segno del chance vote regionale, la vice sindaco ha parlato di quello che si sta costruendo in questa città, io volevo anche dirvi che esiste già una casa delle donne, non è della natura di cui stava parlando il sindaco, ma è una struttura pubblica dell'amministrazione comunale a titolare da pubblica che accoglie 14 donne che hanno problemi multifattoriali, dunque problemi abitativi, problemi economici, problemi esistenziali, ma abbiamo anche donne che sono fuggite da contesti, da situazioni violente che mettevano a repentagno la loro integrità non solamente fisica ma anche psicologica. Io sono contento di vedere così tanti ragazzi, di aver fatto insieme questo laboratorio e questo percorso, voi ci avete una responsabilità che noi vi diamo tutta integralmente, quella di ricostruire un sistema di relazioni dove la gentilezza, il rispetto, la cura siano fondamento nelle relazioni umane ma soprattutto nelle relazioni tra uomini e donne. Francesca ha citato quanto accaduto qualche giorno fa a Livorno, in concomitanza quasi con questa giornata, quello ci rimanda in faccia in maniera violenta e brutale, che alcune realtà esistono e sono molto amplificate, vengono fuori quando la cronaca ci consente di poterle conoscere, ma ce ne sono tantissime ancora che si consumano dietro quella porta che si chiude a una certa ora del giorno o della notte e dove accadono spesso atti di violenza nei confronti di donne e minori importanti e difficilmente discontrabili. Voi ragazzi siete davvero il germoglio nuovo sostanzialmente, a voi la cura di costruire una modalità di stare insieme, condivisa, pacifica, dove il rispetto anche delle diversità abbia senso e significato per la nostra vita stessa, in questo modo noi riusciremo a contrastare una cultura sissista, omofoba e anche violenta che ha caratterizzato purtroppo il rapporto fra uomini e donne nel corso degli anni passati. Dunque questa responsabilità ce l'avete, ve la affidiamo tutta, noi dovete avere la consapevolezza di quanto sia grande questa responsabilità, noi confidiamo nelle vostre capacità, nella vostra fantasia, nella vostra creatività e pensiamo che insieme a voi si possa costruire un sistema migliore nel quale tutte le persone possono vedere valorizzata la propria esistenza qualunque essa sia. Grazie e buon lavoro a tutti!